Parte oggi a Castelluccio Val Maggiore la raccolta firme per la legittima difesa e la tutela dell'inviolabilità del domicilio. La proposta di legge popolare, presentata dall'Italia dei Valori in Cassazione, nasce dalle crescenti domande di sicurezza di cittadini ormai esasperati dei ripetuti episodi di furti ed aggressioni in casa, soprattutto in aree rurali. È ancora impresso nella nostra mente il triste episodio dell'omicidio avvenuto in seguito ad un furto nelle campagne di Lucera lo scorso settembre, per il quale sono stati arrestati padre e figlio. La raccolta firme verte proprio a cambiare queste norme, attraverso l'eliminazione di qualsiasi tipo di reato per chi si difende in casa propria, l'aumento della pena per la violazione di domicilio da due a sei anni, il mancato risarcimento previsto in caso di difesa. La normativa vigente, infatti, permette all'aggressore di trasformarsi in vittima, richiedendo in certi casi anche il risarcimento del danno. La proposta, partita da lontano, oggi farà tappa nel piccolo borgo dei Monti Dauni, con l'intenzione di approvare una nuova normativa in base alla quale chiunque venga aggredito nella propria abitazione possa difendere al meglio se stesso i propri cari ed i propri beni.